Musica 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 Bene mulioni e ben ritrovati in un nuovo video su Rainbow Six Oggi andrò a farmi una partita assieme al mio team Ho anche deciso di comprare il battle pass Perché veramente ti dà un sacco di roba E per quello che costa Secondo me conviene Secondo me questo pass ha pochi livelli Potevano aggiungere qualche livello in più Però devo dire che è molto bello Bella bella chalet No andrò dovevi dire Chalet Che scoreggia Dove sei la bomba? Dove sei muli? Di zè su Guarda che fai i furbetti è questo Hai trovato una bomba Muli uno che viene in stanza qua con me Mi sono qua di zè Non mi cambia posto muli Muli non so come non la sia morta ma Oh Dennis ti fa girare da mi plantiamo E dove ti fai? Jäger Dio Brava Non so più che c'è sta ma bravo Brava Lo devo scoprire la moto Planta eh mi muli Faccio il giro Ah boh brava buona buona C'è con Mitterlight muli Ok va zò sicuro eh C'è con Mitterlight C'è con Yana provo Butto un drone tuo Andrè Aspetta Lo trovo uno o due Prova andare a metterlo Mettigli Non c'è nessun danni Non c'è nessun danni Non c'è nessun danni Ok Hocio Lizio Vai 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 Lizio non è andato Hocio Mira Vai planta Planta Sì 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 Ma c'è qua da trio Oh la Mamma mia Terzo round Siamo ben muli Siamo la stessa roba 200 jane Ah in cosina Cucina No cazzo Stanza libera Bomba individuata Eh so So che te lo provo a mirar Provemo che Possiamo ripetere un attimo Un altro muli Vado dentro Bravi Bravi Ti vuoi fare il fredda Con la finestrella Guarda Mino ho visto un cazzo De nessuno C'ho cocaid Vai bravo C'è altro Non farla botte Vai vai Non farla botte Qua, Danny, qua, Danny, qua. Quella è caduta da cammola. E viene da bar, eh? Ok. Oh, sta plantando, eh? Oh, muliti dentro, eh? Eh, bom. Ma vaffanculo! Cioè, per spararmi a... Neutralizzati. Che round è merda, Vara, mamma mia. No, ma che stai? È un round, donna, no. Eccola qua. Provo a far spawn kill. Oh, quel disinesco è andato. È venuto tutti da rupe. Doe cazzo da rupe. Ma chi me ne ha rubato? Un po' cazzo. 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 Un po' cazzo e cazzo. Un po' cazzo, perché buona buona segreti l'ho come fa no jana e tacher ah eccolo ah si figlia ti farò un c4 a casa ah no buona è il pelanterà eh vai ti farò un c4 a casa no che sfiga a me io in attacco a sto giro che cazzo no non mi perdono ma dio poi ma vado a sto m1 andrime guardi la cam del porto principale ecco lì è lì da bar e vien da bar eh metti anche dall'altra finestra prova a sputtargli Zofia vien da da rimessa ma dio poi mi perdere con una mano a jager che su una pipa sperimenta l'ho là come me ah penso che i rametti buona buona non c'è mi scusi no no io sape cosa ebulismo non stavo capendo un c4 quel deficiente dei jager porca puttana me che aveva sa qua sole quel termite eh c'è danny ah no c'è quel co2 ma dovevi se non ho capito su tutto su carica graffolo e palle faccio apparto fiozzo che mette la carica eh porca c'è friccia c'è beccato ma non non mazzaro si vado a sapere uno è andato c'è un sacco che vuoi morire allora vai via via uovo caricatore tu che guarda c'è non z passi tu ma come c'è in tanzina a destra vabbè 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 hai perso il vicino morto buona ma come una terra mi serve un uovo caricatore ma non 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 ma vado a dire qua ma Mancano quindici secondi hai ancora le an vai vai i faccio lo vabbè ma vaffanculo vaffanculo cazzo attaccar suuu veramente su una marda Is è qua dove siamo entrati noi prima Danny Is è entrati dal dettaglio muli Oh che kill Eh si è a casa dei muli No vaffanculo Subito a destra Non sta a sporgertè Buona Matt Dai io muli dobbiamo chiuderla Matt metti che dove sei la cantina subito un cosa Eh boh Se ti arrivi mettermi uno qua Matt Vai butta adesso un altro toucher butti la vita Ah Dio poi Facciamo un cambio giro dai Oh po' Ma guarda ti che merda che son Mamma mia Buona muli Doppio Danny grazie Anche questo video finisce qui Se volete altre partite con il mio team Scrivetevi pure nei commenti Lasciate un bel like di supporto E iscrivetevi al canale Noi ci rivediamo come sempre in un prossimo video Ciao Ciao